Alessio Casagrande, dal 2008-2009 al Trento, può essere considerata una delle bandiere di questa squadra, è stato capitano e tuttora vicecapitano della squadra. Alessio, avete fatto incette di coppe provinciali e una coppa regionale negli ultimi anni. Adesso puntate a ben figurare anche in quella nazionale. Siete pronti a tornare fuori dai confini regionali? Diciamo che prima di tutto siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto in questi tre anni e soprattutto la vittoria di quella regionale è stata un po' la ciliegina sulla torta. Adesso speriamo di farci valere anche fuori regione dove sicuramente troveremo squadre organizzate come può essere la Clodiense, però secondo me siamo pronti per poter fare qualcosa di valido. Il fatto di aver sempre dominato negli ultimi campionati può essere un problema in vista di questa uscita dai confini regionali e pensiamo già magari a una Serie D il prossimo anno? Io la penso al contrario. Vincere aiuta a vincere. Più vinci, più c'è fiducia in tutto il gruppo, nello staff e quindi c'è maggior fiducia. Ci si allena meglio e quindi la domenica si porta in campo qualcosa in più. Va detto che il campionato non è ancora vinto, sebbene voi stiate facendo campionato a sé quasi con 14 vittorie in Parigi. C'è il Bozner che non sta mollando? Sì, diciamo che sinceramente non me l'aspettavo, anche se è una squadra molto forte con Bertoldi davanti e un allenatore bravo e due centrali bravi. Comunque è una squadra molto forte, però non mi aspettavo che facessero un campionato del genere. Anche perché noi con 13 vittorie e un pareggio ci aspettavamo sicuramente di avere un vantaggio più ampio. Però sta a noi iniziare subito bene perché nelle prime sei partite abbiamo tutti i scontri diretti. Quindi sta a noi appunto nelle prime 4-5 settimane fare un po' la differenza. È praticamente dal 2008-2009 che sei con questa maglia in maniera quasi ininterrotta. In questi ultimi anni hai mai avuto l'occasione o il desiderio di cambiare? Diciamo sicuramente, beh, negli anni precedenti, gestioni Belfanti, Fattingero, avevo anche altre richieste, quindi avrei voluto andarmene, però cartellino era della società e io sono dovuto rimanere. Diciamo che con l'avvento di giacca io ero un po' scettico, ma non per la società che stava per arrivare, ma per quello che c'era stato precedentemente mi sono fidato e diciamo che alla fine ho fatto bene. Molto bene. Quest'anno si è sceso in campo 14 volte su 15 e purtroppo quest'anno hai segnato un po' meno rispetto ad altri anni, quasi zero credo, però sei un difensore che è molto prolifico, insomma sei arrivato a segnare addirittura 5-6 gol in una stagione. Sì, diciamo che negli altri anni qualcosa di meglio avevo fatto, dopo non è il mio crucio dover segnare, però sinceramente ci si toglie qualche soddisfazione vedendo la palla andare in gol, però prima di tutto sarebbe meglio cercare di non far fare gol agli altri, poi se viene un gol sono giusto contento. Come finirà questo campionato d'eccellenza? Speriamo con la nostra vittoria e speriamo che riusciamo subito a staccarci di dosso il Bosner, perché comunque arrivare fino alla fine con loro attaccati non è proprio il massimo, quindi speriamo di partire bene. Speriamo con la nostra vittoria.